Un forte boato ha scosso intorno alle tre di questa notte il sonno degli abitanti di Contrada a Cepraneto a Colecorvino, quando alcuni malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari, ex carripe di Colecorvino stazione. La forte esplosione ha di fatto sradicato dal muro lo sportello per il prelievo del denaro contante, lasciandolo ad una ventina di metri di distanza. I malviventi hanno utilizzato una l'esplosiva per far saltare in aria il dispositivo e poi sono fuggiti a piedi visti da alcuni residenti della zona. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara e i carabinieri della stazione di Colecorvino. Al momento sono in corso le indagini per accertare l'identità dei malviventi. Elementi utili potrebbero giungere anche dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza della banca presa di Mira e da quelle del credito cooperativo abruzzese. Torna così l'incubo rapine a Colecorvino. Il terzo da inizio 2020. In due momenti diversi furono presi di Mira. Prima le slot machine di un bar incontrato a Gallo usando dei trattori come a riete. In una seconda occasione fu rapinato un dipendente di una società di slot machine che si recava in banca per depositare l'incasso di circa 60.000 euro.